Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDix In questo nuovo video sono qui Con una nuova puntata di custom map di merda Allora, ho scaricato questa mappa Si chiama la figgata pazzesca In modalità creativa con trucchi per giunta Cominciamo bene ragazzi, cominciamo bene Allora Caricamento nel mondo Che cazzo è? Oddio! Amblyocale, che cosa? Non si capisce niente Un creeper Per giunta sono in creativa con Tutto in diamante, no, no, vabbè Segui il percorso La leva Ah, sicuramente Scusa, è qua che sta Gancio per filo di inciampo Non so che farmene, ma La leva Andiamo Un osso Passa sotto la colonna Perché? Cade il mondo Oddio! Che cazzo significa? Supera la pruva Supera la pruva Supera la pruva Oh, una casa a fuoco Mi devo preoccupare Un ragno Ciao ragnetto Lava Che cazzo è qua? Oddio Che è? Il salto Che cosa c'è scritto? Il salto Che cazzo fa? Il salto della Mulo Murte Il salto della murte Che cazzo è qua? Oddio Che cazzo Tutto a fuoco va? Cazzo Era difficile Trovarla Oddio No, vabbè Che cazzo Se me ne faccio? E me lo prendo lo stesso Sta roba Bedrock Bedrock E ora? Le cazzo vado? Su Cosa? Cosa sta su? Oddio Tutto a fuoco Ci sei quasi Cosa devo fare? Che schifo è Oddio E perché? Dormi No, perché? Mo vuoi capire perché E mo? Scusa Io non posso Può dormire Sotto di notte Vabbè Io Visto che stanno in trucchi No Time set V Time Off Time set A più di 8000 Dormiamo? Ci sono mostre Ah no, no Posso dormire Notte Ehi Ma dove cazzo sono? Ok Dopo una dormita Con i fiocchi Beh Qualche Poi Creativa Dopo una dormita Con i fiocchi Non so dove devo andare Dove cazzo devo andare adesso Oddio E finita la custom map Oddio Sono bloccato qui Che cazzo è qua? Oh Oh che cazzo Oddio Dove va? Ui Ferma Ferma Voglio andare a vedere Che cazzo è Andiamo Che cazzo è? Ah E' una lava Oddio Che cazzo No No Ah in pratica Devo seguire il percorso Mo Ragazzo devo andare mo Seguiamo la strada Vediamo un po' Oh si esce A sinistra Cosa? Cosa a sinistra? Il tappetino rosso Così Ah giustamente Qua Abbiamo scoperto il mistero E in pratica Sono sempre uscito qua Ah ecco Ho capito Andiamo Segui il percorso Il percorso Seguiamo il percorso Qua una struttura Gacciato Una deformazione Scala Le torre Che cazzo devo fare? Scala la torre Oddio Allora La na na E ora Oui No 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 Minchia Questo è difficile Questo è difficile Anche in creativa Oddio Oddio Oh 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 Me ne vado giù Fanculo Volendo io posso anche passare di qua Che posso stare l'acqua Perché Perché Fine la mappa creata da Curtis96 Seguitemi su Youtube No vabbè No vabbè Vi giuro ragazzi Non l'ho mai fatta Cioè questa è la prima volta che Faccio questa mappa La sto facendo con voi Cioè proprio Non si può vedere Curtis96 Che cazzo Verrò E ti segnalerò Andrò su Youtube E ti segnalerò Ti troverò E ti segnalerò Bene ragazzi Io vi saluto Per questa puntata Di custom map di merda È tutto Ricordatevi di mettere Mi piace Iscrivervi al canale E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao